La previsione è quasi impossibile, anche se io credo che questo governo andrà avanti. Credo che questo governo andrà avanti ed è l'aspetto positivo del garantire stabilità e nel garantire prospettiva di medio periodo, ma a patto poi di fare le cose, perché è molto importante avere un governo stabile e di grande coalizione, quindi di grande forza, ma a patto che poi le cose vengano fatte. Utilizziamo la grande coalizione per fare le riforme che ogni singola parte da sola non riuscirebbe a farle. Non è quello che fino adesso è successo. Si è lavorato su cose minori, non prioritarie, ci si è fatti bloccare da vincoli, ricatti, emergenze quotidiane. Se c'è un cambio di passo e si affrontano i grandi temi del Paese, ben venga la grande coalizione, ben venga la stabilità, ma a patto di fare.